bello ragazzi sono ben wolfs lei cavietta e questo è creativers come potete vedere abbiamo l'armatura di diamante abbiamo il guanto di lumite ci manca tutto quanto il resto e direi in questa puntata di andare a prendercelo se ben ricordo ci servono dei corni per poter craftare l'armatura e la spada di lumite che dovrebbero essere l'armatura la spada finale per quanto riguarda il gioco quindi direi di andare nei canyon dove c'erano sempre quei trogoni eccone uno che ci davano fastidio magari se ci andiamo furati di vita facciamo una gran 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 bella cosa eccone uno ciao ti ricordi di noi eravamo quei naboni che ci devastavi di danno quando ci vedevi a quanto pare la situazione adesso non è più dalla tua parte guardate ci sbalza che ci sbalza ma non ci fa minimamente danno praticamente e si e si troppi corni troppi corni in cui devo dare la caccia ai troggoni ragazzi se ti viene andata a caccia di troggoni no beh lo fate adesso con noi vediamo un pochettino ci sono un sacco di questi scheletrini che non ce ne può fregare de meno per fortuna abbiamo la possibilità di svolazzare per individuare i troggoni forza troggoni tra l'altro poi dobbiamo anche vedere quanti ce ne servono tra l'altro abbiamo proprio dietro casa vedete abbiamo proprio dietro casa e attenzione scheletrino scheletrino non ci riguarda minimamente io direi di tornarcene eccone uno lì eccone uno lì eccone uno lì però forse insieme dove dovete essere non potete separarvi un attimo vero giusto un attimo scusi troggone lei che ci vedeva anni luce di distanza prima adesso non ci vede più vada cignora cignora completamente mi scusi lei buon uomo mi dà il suo corno grazie ora me ne ha dato 3 quanta generositudine controlliamo ragazzi quanti ce ne servono per completarci tutto ci servono 4 per la spada poi 2 4 6 e 8 per quanto riguarda l'armatura quindi con 12 di questi siamo a posto da parte credo che ne abbiamo uno o due per io che scrupolo almeno una undicina buona adesso me la prenderei ne abbiamo visto un altro ne abbiamo visto un'altra alla fine si trovano relativamente con facilitudine anche perché sono cicci per fortuna questi sono cicci scusi lei ci caga l'unico problema è che essendo questo qui un canyon se ci sbalza via ecco da dove guardate dove è andato guardate dove è andato con tutti i posti in cui poteva andare è giustamente adesso ci attaccano in due sarà una puntata svolazzante vedete ci fanno rimbalzare malissimo ameniamoli finché possiamo che uno l'abbiamo fatto fuori e sapete che vi dico che la ricompensa la voglio anche perché scusate l'abbiamo abbattuto la ricompensa la voglio anche la smetti di sbalzarmi la smetti grazie perfetto sono arrivata quota 7 ce ne mancano 4 direi che se siamo fortunati e noi non lo siamo di solito ma se siamo fortunati con un altro paio di drogoni ce la capiamo devono cercarne qualcuno un po più tranquillo da questi pizzi meno male che c'è il volo meno male che c'è il volo vicino alla nostra ex base su twitch di solito ci stavano sempre adesso ovviamente non ce ne sta manco mezzo anche se qui abbiamo visto muoversi qualcosa eccolo infatti va che vista che abbiamo va che vista ok se riuscissimo a incastrarci nel terreno non sarebbe male no e non ci riusciamo mica muori che ormai non rappresenti più quel grosso ostacolo che rappresenta di una volta una volta sì che ti dovevamo tenere ma non è questo il giorno allora via da qua perché c'è un po troppa neve per i nostri gusti dice la nostra vecchia base di solito da questi pizzi qualche troggone c'era penso ce ne manchi soltanto e sì ce ne mancano un meno un paio quindi se tutto va bene un ultimo troggone forza che sono finiti non mi finita adesso che sta per fa buio eccolo lì eccolo lì eccolo lì carica ce ne sono due ce ne sono due ovviamente ce ne sono due porco giuda ragazzi adesso sì che si balla eh abbiamo dovuto farci qualche bomba che stanna perché le bombe che stanna non ci danno una gran bella mano in queste circostanze se riuscissimo a bloccarci verso una parete ok un abbattuto un abbattuto tu sei quello di sicurezza diciamo eh e niente rimbalziamo male rimbalziamo male rimbalziamo ok perfetto tu ce ne dai due tu ce ne dai tre quanta generosità io direi che possiamo tornarcene allegramente verso la nostra base devo dire che abbiamo fatto abbastanza in fretta a trovare i troggoni e c'è andata abbastanza bene dovrebbe essere ragazzoni tutto quanto pronto per quanto riguarda il crafting che vi dicevo vediamo un po se abbiamo fatto bene i conti perché noi off screen siamo andati un po a farmarci sia il lumite sia i materiali corrotti a posto qua ci serviva una torcia avevo droppato esatto un art terc lanterna io metterei qui anche luce strana fa una luce tipo verdina non mi piace qui allora mettiamola tipo o mo faccio una bella cosa ragazze faccio una bella cosa perché è se smettiamo di prendere quelle magari 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 famo così poi facciamo così facciamo così siamo vicini al tetto si è più o meno in corrispondenza di questa cosa qua quindi circa qua mettiamo questa lucina ok non è esattamente in corrispondenza ma ci siamo capiti ci siamo capiti bene 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 così abbiamo un po di luce dall'alto allora mettiamo a posto questo materiale mettiamo a posto nei vegetali il cactus togliamo c'era c altrimenti non ci muoviamo mai nella vita mettiamo a posto questo ma come siamo ordinati ma come siamo ordinati allora tu ci servi ne avevamo uno prendiamo c'è anche questo coso corrotto poi nei minerali lavorati ci prendiamo anche questi questi ci possono servire cosa serve più per la spada l'arc stone che abbiamo di sicuro ne abbiamo 114 da parte ma dove vogliamo andare ragazzi vedo tutto quanto illuminato qui è quindi attenzione attenzione innanzitutto andiamo a farci una bella spada di lumite che è la primissima cosa che vogliamo farci e poi se tanto mi da tanto armatura 1 armatura 2 armatura 3 armatura 4 fantastico ragazzi se ci prendevamo un corno in più era meglio giusto per poterci fare subito un'altra spada di lumite ad ogni modo ad ogni modo possiamo rimettere a posto i materiali che non ci servono più no te non vai qua abbiamo l'armatura che volevamo avere il corno invece va qua assieme a questo ragazzoli vediamo come ci trasformiamo va vediamo come ci trasformiamo allora dobbiamo equipaggiarci la spada di lumite poi tapa 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 e tapa ragazzi dovremmo essere al massimo le armature sono tutte uguali va detto sono tutte uguali però siamo siamo così twitchosi ragazzi siamo twitchosi andiamoci a vedere una luce un po più forte di questa mettendo naturalmente a posto il nostro vecchio set che il nostro vecchio set ci ha fatto compagnia per poco ma ci ha dato una mano a farmaci questi materiali ok no nel bagno non va bene ecco qui abbiamo un pochino più di luce vediamoci un po ragazzi come siamo violetti come siamo violetti ci piace ci piace ci piace ci piace un sacco ci piace e direi di tornarcene nella camera da letto ok famoci un attimo una dormitina tra l'altro come potete vedere a poco a poco la casa abbiamo riempita delle nostre urne funerarie praticamente sono tutti quanti resti delle caviette morte spaste per la casa come potete ben vedere e mi piacciono un sacco andiamocene sulla balconata perché abbiamo un annunciazione annunciazione da fare ce ne andiamo qua vicino al telescopio va guardando l'orizzonte guardando l'orizzonte perfetto 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 ci piace questo scenario a signori annunciazione annunciazione questa qui che avete appena visto è l'ultima puntata di creativers per quanto riguarda la serie ufficiale siamo riusciti a prenderci l'armatura più forte del gioco il guanto più forte del gioco e naturalmente anche la spada più forte del gioco più di così non se può fare ragazzi in questo momento creatives ci offre soltanto che cosa la possibilità di sbloccare nuove ricette che sono le ricette che si sbloccono facendo le cazzatine guardate se sovra vedere qua ne abbiamo sblocati 56 su 83 però per esempio questi qui sono tutti quanti oggetti che si comprono nello store hanno la stessa potenza credo della spada di lumite di sicuro non sono più potenti l'armatura abbiamo tutte qua ci sono tutte quante bombe e bombettine che però ripeto riguardano potenziamenti delle cose che già ci sono ma il gioco base per quello che riguarda i contenuti pv e di combat è terminato quindi direi che la serie ufficiale di creativers si chiude qui la nostra cavetta completate il suo percorso di crescita è diventata the top of the top di quello che poteva diventare ma naturalmente non disperate perché rimane pur sempre la parte di costruzione io ho un paio di progetti in mente uno già ve l'ho detto che quello che riguardava il porticciolo mentre un altro un progetto segreto che è stato commissionato per così dire da un fan che naturalmente intendo realizzare è un progetto molto vasto che mi chiederà parecchio parecchio tempo e su cui lavorerò off screen facendo di tanto in tanto qualche video da poi riunire in un unico video quindi cavette creatives attonderanno con delle puntate extra vi ricordo che le puntate extra le potete vedere dal lunedì a venerdì alle 14 e 30 che è l'orario che riguarda i video non nella programmazione ufficiale diciamo signori io vi ricordo che sono live anche su twitch dal lunedì a venerdì alle 21 e 30 mi raccomando non perdetevi la prossima serie che ovviamente prenderà come giorni di calendario quelli al posto di creatives e mi raccomando mi raccomando mi raccomando iscrivetevi per vedere video nuovi ogni giorno grazie e da capite tutto alla prossima ciao